In questa clip vi parlerò della mia transizione da tigre del VMA 542 a lupo del gruppo aerei imbarcati della Marina Militare. Il simbolo di questo gruppo è un lupo e quindi il personale che appartiene a questo gruppo viene chiamato col nome del lupo. Ma prima di passare a questo volevo darvi un rapido flash su un'esperienza di test che ho fatto su un pod di designazione laser. Mi riferisco al pod TIALD, Thermal Imaging Airborne Laser Designator, che era stato già integrato dagli inglesi sui loro Harrier e che era davvero molto interessante perché consentiva di dare all'arrier, equipaggiare l'arrier con una capacità di attacco al suolo di precisione, con la possibilità quindi di guidare delle bombe a guida laser sul bersaglio. Sapevo che i Marines erano interessati all'integrazione di questo pod e quindi chiesi di poter andare a vedere un po' a che punto era questo livello di integrazione, quali erano le valutazioni che erano state fatte dai Marines a riguardo. Per cui chiesi di recarmi presso la Naval Air Weapon Station a China Lake in California, dove c'era un centro di ricerca, sviluppo, acquisizione, verifica e valutazione dei sistemi d'arma. Quindi la mia visita fu provata e quando arrivai rimasi davvero colpito dalle dimensioni di questa realtà. Era veramente enorme, ma ero rimasto anche molto colpito dal livello di sicurezza con cui proteggevano le informazioni classificate. Quindi mi sentivo molto sotto osservazione, ero molto limitato nei miei spostamenti là dentro. Quindi mi fecero questo briefing su questo pod. Era un pod che non era integrato nel sistema operativo dell'aeroplano. Quindi andava gestito a parte e quindi richiedeva un po' di sforzo nella gestione in più perché appunto si trattava di un sistema a parte. Devo dire che rimasi colpito negativamente invece dall'aeroplano perché quando arrivai all'aeroplano che mi era stato assegnato dove c'era già il pod installato, feci i controlli pre-volo e quando andai a toccare il timone dell'aereo per muoverlo a destra e sinistra, rimasi colpito dal rumore che faceva questo timone e rimasi un po' sorpreso. Feci un po' una valutazione dei rischi. Certo che rifiutando l'aeroplano avrei perso l'opportunità di effettuare questa attività di verifica su questo pod e quindi insomma mi turai un po' il naso decisi di accettare l'aeroplano considerando anche che sarei andato a volare sul deserto e pensai se si mette male comunque ho sempre una maniglia che posso tirare, un seggiolino che dovrebbe partire, sono in mezzo al deserto quindi l'aereo non farebbe dei danni collaterali quindi accettai il rischio e mi feci la mia missione in volo. Decollai, il pilota che mi aveva fatto il briefing era in volo su un altro aeroplano, eravamo ovviamente in collegamento radio, lui mi dava dei suggerimenti nell'impiegare questo pod, rispondeva alle mie domande in modo tale da mettermi insomma a mio agio con questo sistema. Devo dire che rimasi davvero molto entusiasta di questo pod che poteva essere anche usato come un pod di ricognizione, quindi davvero molto interessante. Scrissi una relazione allo stato maggiore della marina spiegando un po' le qualità di questo pod, le capacità che ci avrebbe assicurato la marina e allo stato maggiore si convinsero. Tuttavia le lungaggini burocratiche ci portarono a un'acquisizione successiva di un pod diverso, il Lightning 2, di cui ho già parlato in una precedente clip, quindi un pod più avanzato che peraltro insomma ci ha fatti distinguere in particolare durante l'operazione Enduring Freedom. Quando tornai a Cherry Point, una volta lasciato China Lake, qualche giorno dopo appresi la notizia che quell'aeroplano che insomma mi convinceva poco era precipitato nel mezzo del deserto. Della cosa non ero molto sorpreso, ero comunque contento del fatto che il pilota si era salvato. Nel frattempo a Cherry Point erano arrivati un certo numero di sotto ufficiali della marina italiana che erano poi i sotto ufficiali che si sarebbero occupati della manutenzione e della riparazione dei nostri aeroplani. Io ero l'ufficiale più anziano italiano presente a Cherry Point quindi facevo un po' da riferimento nei confronti di questi sotto ufficiali, ne curavo anche gli aspetti disciplinari ma non solo, gli aiutavo anche a integrarsi in questa nuova realtà. Loro erano lì per studiare, frequentavano delle lezioni gestite dal centro di addestramento dei Marines. Io ho pensato di organizzare una volta alla settimana a rotazione, c'era un sotto ufficiale che presentava a tutti, faceva un briefing sui sistemi di sua competenza. Questo mi consentiva di capire anche il livello di apprendimento di questo personale, il livello qualitativo anche di queste persone, ma mi consentiva anche di distribuire le informazioni sulle caratteristiche tecniche dell'aeroplano a tutti quanti i sotto ufficiali presenti perché tutti quanti partecipavano. Quindi veniva un po' a colmare il gap dell'addestramento dei Marines che era molto settoriale quindi praticamente ogni sotto ufficiale veniva a conoscenza degli aspetti limitati al proprio ambito di competenze. In questo modo qua, tramite questi briefing, si allargava la conoscenza del velivolo a tutti quanti gli specialisti sotto ufficiali. Devo dire che questi briefing tornarono comodo anche a me perché a me piaceva molto entrare anche negli aspetti tecnici dell'aeroplano e quindi grazie a questa iniziativa mi formai anche una buona conoscenza tecnica che sicuramente l'addestramento per piloti presso i Marines non mi aveva dato. Verso la fine del 1993 arrivò finalmente al VMA 542, al gruppo dove era ancora assegnato, il primo AV8B+. Devo dire che l'arrivo di questo aeroplano portò veramente a una rivoluzione operativa perché non si trattava soltanto del radar, ma il radar era veramente il cuore di questa rivoluzione. E arrivò, assieme all'aeroplano, più o meno arrivò, anzi arrivò in un certo anticipo rispetto all'aeroplano, arrivò il maggiore Coniers dei Marines ed era un Marine che era un po' fuori dallo stereotipo classico dei Marines. Era molto preparato nella parte informatica, era molto preparato a livello della tecnologia, era uno studioso, molto approfondito, approfondiva molto le cose, era molto pignolo, molto preciso. E devo dire che il gruppo di volo 542 fu molto sensibile nelle esigenze della Marina italiana perché mi inserì subito nel primo gruppo di piloti dei Marine destinati a transitare su questa nuova versione dell'Arier. Era una transizione chiaramente molto incentrata sulle funzionalità, le potenzialità del radar in tutte le tipologie di missione, quindi nelle attività di attacco al suolo, di attacco nuovale e ovviamente di combattimento aereo. Quindi ho preso dimestichezza con le mappe radar che il radar era in grado di realizzare, quindi poteva essere utilizzato in modo molto efficace anche per creare proprio delle mappe radar, delle aree di interesse. Si vedevano le sagome delle navi. E poi per la parte aria-aria, insomma, era un radar che ripuliva lo schermo da tutti quelli che erano i disturbi del mare e della terra, quindi dando veramente una rappresentazione molto pulita dei contatti presenti nel volume d'aria di interesse. Fu così che diventai il primo pilota italiano a pilotare la V8B+, e quindi la versione da combattimento che è stata adottata dalla Marina italiana, e diventai anche il primo istruttore. Questo era fondamentale perché sarei stato poi responsabile dell'organizzazione e della gestione, della transizione dei piloti italiani di Harrier su questa nuova macchina. Perché fino a quel punto l'Italia disponeva soltanto di piloti che avevano avuto modo di volare con la versione Day Attack, quindi attacco diurno dell'Arier, o Night Attack, attacco notturno. Quindi si trattava di transitare tutti questi piloti sul velivolo definitivo. Il primo aeroplano era destinato ad arrivare a Cherry Point ad aprile del 1994. 1994 e vi ricordo che questi aeroplani erano sostanzialmente fondamentali per poter trasformare il Garibaldi in una vera e propria portaerei, quindi dando concreta attuazione alla legge 36 del 1989. Tenete presente che il gruppo aerei imbarcati della Marina, che è nato nel febbraio del 1991, e che ricevette i primi due Harrier nel giugno dello stesso anno, di fatto aveva due aeroplani che erano due trainer, quindi due velivoli bi-posto, che non erano velivoli da combattimento, con delle limitazioni nell'impiego operativo elevatissime. Quindi di fatto era una storia ancora tutta da scrivere e andava scritta ovviamente col velivolo da combattimento con la V-8B+. Fu istituita una sezione aerei agli inizi del 1994, appunto con l'ottica di ricevere i primi tre aeroplani prodotti dalla McDonnell Douglas, e quindi cominciare l'addestramento dei piloti, in modo tale da rendere la sezione pronta a imbarcare sul Garibaldi, che sarebbe arrivato nelle acque degli Stati Uniti alla fine dello stesso anno. Quindi questo era un po' l'obiettivo della sezione aerei che era stata costituita, e il 20 aprile del 1994 è una data memorabile per la Marina, ma anche per il sottoscritto, perché in quella data io andai di persona presso la sede della McDonnell Douglas di St. Louis per ritirare il primo aeroplano. A ritorno da St. Louis arrivai a Cherry Point con il primo aeroplano, fui accolto da tutto il personale della sezione aerei in modo molto gogliardico, è stato davvero un momento indimenticabile. Bene, io con quel primo aereo c'era poco che potevo fare nell'ambito della sezione aerei, perché per poter addestrare qualcun altro avevo bisogno quantomeno di un altro aeroplano. Quindi cosa feci? Con quel primo aereo continuai a lavorare con il 542, e quindi offrivo supporto istruzionale ai piloti del 542. Nel frattempo ovviamente consolidavo le mie capacità istruzionali. Quando arrivò il secondo aeroplano, un mese dopo, quindi a maggio, finalmente avevamo due aeroplani e cominciai la mia attività per formare altri due istruttori, in aggiunta al sottoscritto, per poter appunto avviare la transizione di tutti quanti i piloti. La prima cosa che feci fu quella di organizzare un rischioramento presso la base di Buford, dei Marines, dove c'era il gruppo di volo dei Crociati, ecco qua, qua c'è una patch, il WMFA 122, il gruppo di volo dei Crusaders, i Crociati, perché avevo già avuto contatti con loro, avevo già fatto delle attività addestrative di combattimento aereo con loro, erano dei buoni contatti, e chiaramente l'F-18 aveva lo stesso radar sostanzialmente della V-8B+, quindi era fondamentale per me acquisire tutte le informazioni necessarie per poter comprendere meglio l'impiego tattico anche di questo importante sistema. Devo dire che i Crociati furono veramente molto disponibili nei nostri confronti, travasarono tutta la loro scienza e conoscenza, condividero le loro tattiche, si fece un rapido indottrinamento, revisione teorica, per passare poi subito all'attività pratica. Quindi facevamo sostanzialmente dei combattimenti 2 contro 2, 2 Harrier contro 2 F-18, seguivamo dei profili di volo molto precisi, prestabiliti, in modo tale che noi potessimo essere esposti a diverse situazioni, e quindi poter impiegare il radar conseguentemente. Alla fine di questo rischieramento, in occasione dell'ultima missione, si decise che l'ultimo ingaggio per quella missione l'avremmo fatto fuori dalle regole, ognuno poteva gestirselo come voleva, non c'era niente di prepianificato. Allora quando io feci il briefing al mio gregario, per questo ultimo ingaggio gli dissi, guarda qui dimentichiamoci tutto quello che ci hanno insegnato, quindi diamo un colpo di spugna, dimentichiamoci tutto, perché qui c'è poco da fare, cioè l'F-18 è sicuramente un aereo più capace nel combattimento aereo di quanto non sia l'Arier, dobbiamo cercare di stupirli con qualche effetto speciale, e gli preannunciai che lui sarebbe stato l'agnello sacrificale di una strategia che ci avrebbe dovuto portare a prevalere, ma evidentemente una perdita era pressoché inevitabile. Quindi praticamente durante questo ultimo ingaggio, quando si chiamò il File Zone per radio, che era la chiamata diciamo che avviava i combattimenti, abbiamo visto questi due F-18 che stavano venendo verso di noi nella classica formazione radar, quindi abbastanza distanti uno dall'altro, uno a fianco all'altro, venivano verso di noi. Noi invece, io ero incollato praticamente al mio gregario, eravamo praticamente vicinissimi, eravamo quindi in modo tale da presentare all'avversario un solo contatto radar. Alla distanza prestabilita, il mio gregario fece una virata verso destra, abbastanza aggressiva, ma non troppo, livellata. Io invece violentemente mi buttai verso il basso per portarmi alla quota minima consentita e per mantenermi nel notch in modo da sparire, da non comparire diciamo sui radar dell'avversario. Non sto a ripetermi perché vi ho già parlato in una precedente clip del notch e vi ho spiegato come mai si riesce a sparire dai radar buttandosi nel notch, ma fu quello che feci appunto per mantenere la mia posizione nascosta. Arrivato alla quota minima consentita, guardai verso l'alto per acquisire otticamente quanto prima i due avversari, anche perché chiaramente noi due nel fare queste manovre avevamo perso al radar i nostri avversari, che erano rimasti ovviamente fuori dall'inviluppo dei nostri radar. Quindi li acquisì subito otticamente e mi accorsi che stavano dirigendo sulla preda, ossia sul mio gregario, ma non si erano assolutamente accorti di dove io fossi. Fu così che tirai la cloche nella pancia in modo tale da manovrare violentemente e portarmi in coda loro. Nel momento in cui lanciarono un missile a corto raggio contro il mio gregario, abbattendolo, seguirono le mie due chiamate di lancio di due missili Sidewinder a corto raggio su di loro, uno sul loro leader e uno sul loro gregario, in rapida sequenza. Lasciai il radar in ricerca, quindi non comandai il lock-on, perché se fossi andato in lock-on con il radar li avrei avvertiti della mia presenza in coda. Quindi feci tutto manualmente, tutto a vista, e li freddai entrambi. Quindi praticamente la missione si concluse con la nostra vittoria, due a uno. Io rientrai soddisfatto, il mio gregario si guadagnò una medaglia al merito, e i due F-18, insomma, ebbero una brutta sorpresa. Comunque li ringraziai davvero, di vero cuore, per tutto quello che ci avevano travasato, per tutte le preziose informazioni che ci avevano passato, e praticamente ritornammo a Cherry Point con il nostro bagaglio di conoscenze per poter poi avviare efficacemente la transizione su questo velivolo. In questo modo si è conclusa l'avventura negli Stati Uniti, e nelle prossime clip vi parlerò poi delle mie esperienze presso il gruppo aerei imbarcati nella base di Grottaglie. A risentirci. Grazie.